E auspichiamo che sia l'inizio di un lungo percorso di una collaborazione fattiva sulla riviera Ligure. E come mai proprio Fondo Casa? Fondo Casa per il motivo, oltre ad avere ormai 30 anni di presenza sul territorio e una storia importante, la presenza di oltre 40 punti vendita con oltre 100 operatori che operano direttamente in Liguria. E quindi l'opportunità di avere un prodotto, una banca dati idonea alla richiesta di questo tipo di clientela che vuole affacciarsi sul mercato Ligure. Che tipo di clientela è? È una clientela dove ha una fascia particolare, non è il classico russo che oggi noi pensiamo che sia presente sul mercato da Porto Rotondo a Forte dei Marmi oppure direttamente su piazze importanti cittadini come può essere Firenze e Roma. È una fascia media che si esposa in maniera corretta con il mercato Ligure. Quali le zone più attrattive per loro? La manifestazione di interesse è stata un interesse prevalentemente sulla piazza di Alassio con grande richiesta per una piazza come Loano, poi passiamo direttamente sull'imperiese dove andiamo a toccare la piazza di Sanremo e Bordighera. Quindi la costa e mi diceva dove ci sono porti e possibilità di questo genere? Sì, la costa per un discorso per una diversità di mercato, di prezzi e di prodotto ma soprattutto perché nelle varie location c'è l'opportunità di avere dei porticcioli, dei posti barca dove la manifestazione di interesse di queste persone è veramente molto attenta.